Ok, allora, grazie di essere venuti anche stasera a sentire questa serata dedicata alla movimentazione manuale ai carichi. In particolare, questa sera parleremo del rischio da sollevamento. Sostanzialmente vedremo un po' tutti i passaggi che prevede la ISO TR12295, che è quella norma che è stata emanata ormai qualche anno fa, che in Italia di per sé non è stata recepita dall'Uni, quindi rimane una norma ISO. In giro su internet trovate una traduzione in italiano senza grossi problemi, è una traduzione chiaramente non ufficiale, essendo stata recepita, però assolutamente leggibile. Questa norma che di per sé, ripeto, in Italia non è stata recepita, in verità ha acquisito un certo valore quando sono uscite delle sorte di linee guida, si chiama linee guida ai buoni prassi per la movimentazione dei carichi, create dal Comitato interregionale per la prevenzione, dove sostanzialmente viene ribadito quello che poi è contenuto in quella norma. Come a trasformarla quasi in, non dico un valore ufficiale, perché le linee guida hanno il valore che hanno, però sicuramente vale qualcosa di più di una norma ISO non recepita. Quello che vedremo stasera è la parte di sollevamento e sollevamento trasporto, quindi faremo i vari passaggi dalla valutazione iniziale, la quick assessment, fino alla valutazione di dettaglio usando il classico metodo del NIOSH e vedendo la valutazione del rischio dal trasporto, quindi quando si applica e come andare a verificare quell'indice di rischio. Allora, partiamo da una sede aziendale, prima di entrare e andare a valutare le movimentazioni partiamo dalle mansioni, quindi facciamo un po' il contrario di quello che facciamo per gli altri rischi, tipo per il rumore, che prima carichiamo le misure e poi andiamo sulla mansione. Allora, come sapete la ISO TR 12295 introduce una valutazione per step. Gli step sono sostanzialmente tre. Lo step 1 è la cosiddetta domanda chiave. È una domanda che determina la presenza o meno del rischio. Nel caso del sollevamento e del sollevamento e trasporto la domanda è questa qui. Sono presenti azioni di sollevamento e trasporto manuale di un oggetto di 3 kg o superiore? Ecco, se io qui rispondo no, guardate cosa capita, sostanzialmente tutte le domande legate allo step 2 spariscono. Il rischio non sussiste. Non è verde. È zero. Non c'è proprio. Non faccio la visita medica, non faccio la formazione, non faccio l'informazione. Il rischio da sollevamento e sul sollevamento e trasporto è assente. Anche una persona con delle difficoltà in quel caso non è esposta al rischio. Ok? Questa è la prima domanda. Così come per le altre valutazioni c'è questa domanda chiave, questo spartiacque. In questo caso è un on-off, quindi non è come le vibrazioni ad esempio. È inferiore al valore d'azione però il rischio è presente. È molto più simile al rumore sotto gli 80 decibel. Cioè dire, guarda, è talmente basso il rischio che è escludibile proprio. Non è accettabile, è escludibile. Non c'è. Ma io posso anche dire che è paragonabile a quello della popolazione non lavorativa? Di più. Di più perché se poi vai a vedere nella ISO 11228 parte prima c'è uno specchietto con i vari pesi. Adesso se volete lo andiamo a vedere. Ah, però da qui non lo vedo. Però troverete che c'è lo specchietto dei pesi. 3 kg non è neanche richiamato come peso per la popolazione. È proprio il meno del meno del meno. Attenzione, una cosa. Un impiegato. Qui cosa rispondiamo? Sì o no? Ecco, quindi attenzione che dire no non è così automatico. Vabbè, un sacco di mansioni le tolgo. Ni, non è che proprio le tolgo. Probabilmente qui la risposta sì, in alcuni casi le ho. Chiaro, potrei avere ad esempio, parlavamo di un guardiano di un'azienda che nella reception può anche darsi che proprio non sollevi 3 kg. Cioè, se fa proprio quello che alza e abbassa la sbarra, è possibile che non sollevi proprio mai. Ok? Se la sbarra è motorizzata. Se la sbarra è motorizzata, sì. Se c'hai il cavo, la catenella, beh un traino è spinta, ipoteticamente. Se no, qua potremmo anche o meglio nell'altra sezione scrivere. O che occasionale? Sì. Attenzione, quello poi è un altro paio di maniche, nel senso che io posso avere ancora un caso. Allora, ipotizziamo che non ci sia quello che noi chiamiamo occasionale, perché di per sé mi va a finire nelle domande. Allora, ipotizziamo quindi, parliamo dell'impiegato e facciamo proprio un esempio. L'impiegato, l'impiegato qui magari rispondiamo sì. Solleva dei dossier. Quei dossier possono pesare intorno ai 5 kg, generalmente. Quindi, la risposta solleva di 3 kg superiore, devo dire sì. A questo punto si apre una serie di domande. Delle domande introdotte dalla ISO TR 12295. La ISO 11228 parte prima non ne parlava minimamente, ma andava subito a dei test. Vai. Per te, se non si può spenderla in un certo punto di vista, perché non si riesce a vedere? Sì. Che dite? Cosa sono queste domande? Le domande sono, sostanzialmente, la ISO 11228 parte prima, almeno in alcuni suoi punti, risulta non di facilissima applicazione, soprattutto per le mansioni molto non omogenee. Quindi, l'addetto allo scarico di una linea di produzione è ancora ancora, se incomincia a entrare in mansioni un po' particolari, come l'impiegato, che ha sicuramente un'esposizione molto bassa, ma non tanto facilmente valutabile, ecco che allora l'applicazione della norma non è proprio facilissima. La ISO TR vuole in qualche modo permettere di dire alle aziende e ai valutatori, guarda, ti do una serie di domande, in base alle quali puoi già dire se il rischio è sicuramente accettabile, oppure sicuramente non accettabile. Chiaro che ci potrebbero essere delle situazioni in cui, in base a queste domande, non so dare la risposta. E allora, a quel punto e solo a quel punto, vado alla valutazione di dettaglio. È una bella vittoria, perché magari se mi ritrovo in una di quelle condizioni, sia accettabile che non accettabile, non ho bisogno di fare tanti calcoli. È già lui con queste domande che mi ferma e mi dice, guarda, non andare oltre. Guardate, è un po' come l'articolo 191 sui rischi fisici, no? La valutazione può terminare con la giustificazione da parte del datore di lavoro che ulteriori indagini non sono necessarie. Immaginiamo una cosa del genere. Rispondo a queste domande ed è il sistema a dirmi, guarda, fermati qua. Oppure l'eroa? Si misurano l'eroa della saldatura? No, perché sicuramente non è accettabile. Non dire che vai a misurare la saldatura. Sai già che sei fuori, tanto che usi la maschera. Se no, non useresti la maschera. Quindi non serve andare nel dettaglio quando il rischio è sicuramente accettabile o sicuramente non accettabile. Concentriamoci su quelle mansioni dubbie, dove effettivamente qualche problema, non so bene se ricade in uno o nell'altro. Le domande che voi troverete su quasi tutti e quattro i distretti, sollevamento e sollevamento e trasporto, traino e spinta, movimenti ripetitivi, posture incongue, si riducono a tre tipologie di domande. Alcune ne hanno solo due, le statiche ne hanno solo un tipo. Le domande possono essere i tre tipi. Uno, condizioni aggiuntive. Le condizioni aggiuntive sono delle condizioni la cui presenza di almeno una determina il fatto che il rischio non può essere accettabile. Cioè, non è che non può essere accettabile, non è automaticamente accettabile. Se io ho una condizione aggiuntiva presente, come minimo ho una situazione dubbia. Se non, non accettabile. Vedete che infatti, di base, le domande qui sono in OFF. Cioè, condizioni non presenti. Se io mettessi ON, vedete che da verde diventa già grigio. Cioè, mi dice, non so più dirti quanto vale. Perché è una condizione aggiuntiva. La condizione aggiuntiva fa sì che non puoi dire a priori sono in condizione verde accettabile. Chiaro? Poi abbiamo le condizioni accettabili. Il rispetto di tutte le condizioni accettabili fa sì che io sia in una condizione potenzialmente accettabile. Se io togliessi una di queste, andrei in una condizione dubbia. Non rispetto tutte le condizioni di accettabilità. C'è una condizione accettabilità che non rispetto, quindi non c'è sto automatismo. Magari poi è verde uguale. Magari poi dalla valutazione di dettaglio viene verde. Ma il sistema ti dice, devi fare un'analisi di dettaglio. Non è possibile dirlo in questa fase. Condizione verde. Nessuna condizione aggiuntiva presente. Tutte le condizioni accettabili presenti. La terza tipologia è la condizione critica. La condizione critica sono tutte delle situazioni, la presenza delle quali di almeno una, determina automaticamente, a prescindere da tutto quello che è stato prima, condizioni di non accettabilità. Per esempio, supero, sollevo carichi superiore ai 25 kg. Viola. Perché lui mi dice subito viola? Perché se io poi, mettiamo che me ne fregassi di queste domande, ah non me ne frega di queste domande, vado oltre. E vado a fare un naios. È già rosso. Come minimo è rosso. Ma facilmente sarà viola. In verità, voi vi fermate prima, perché applicando la ISO 11228 parte prima, la prima domanda che vi fa la ISO è sollevi carichi superiori ai pesi di riferimento? Sì, non accettabile. Di per sé non dovrei neanche arrivare al naios. Dovevi fermarmi alle domande prima. Poi, non volete, andate sul naios, ma tanto supererete l'uno sicuramente. Ok? Faccio notare, quindi. Vediamo un po' i vari... Quindi, io ho tutte le condizioni accettabili, accettate. Tutte le condizioni aggiuntive assenti, ma ho una condizione critica, rosso. Non ho nessuna condizione critica. Ho tutte le condizioni accettabili, verificate. Ho tutte le condizioni aggiuntive assenti, verde. Se ho una condizione aggiuntiva presente, dubbio. Se ho una condizione di accettabilità non presente, grigio, dubbio. Ok? Dubbi? Vai. E la massa totale? è qua. La massa totale la troviamo sia nelle condizioni di accettabilità che nelle condizioni critiche. Non c'eravamo con la vista, per esempio, per prima vederla. Lui mi dice, guarda, trasporto... Ah, prima di tutto trasporto. Diamoci una piccola definizione. Voi avete sollevamento fino a quando il carico non viene spostato in orizzontale per più di un metro. Quando superate il metro, si innesta oltre al sollevamento anche il trasporto. Prendo un oggetto, lo sollevo, lo metto su un ripiano, sollevamento e basta. Prendo un oggetto, lo sollevo. 4, 4, 5 passi, lo mollo su un ripiano. Ho un sollevamento e ho un trasporto. Valuto entrambi gli elementi. Nella ISO 11228 le verifiche sul trasporto sono susseguenti. Quindi dopo il NIOSH ci sono tutta una serie di test basati sul trasporto e generalmente su un peso comunativo in base alla distanza, alla frequenza, ma anche ai pesi sul minuto, sull'ora e sul turno giornaliero. Per esempio, condizione accettabile mi dice distanza di trasporto inferiore ai 10 metri durata 8 ore massimo 10 tonnellate. Notate una cosa. Se io qui... ma Fabio, scusa, per un metro intendi un metro per ogni azione di sollevamento? Sì, almeno un metro... No. In che senso? Cioè, se io devo caricare... quanti centri metri farebbe a roma, no? No, prendi un oggetto, lo tieni su, lo tieni sollevato, fai più di un metro, diventa un trasporto. E quindi fai poi, in una fase approfondita, sollevamento e trasporto. Sì. Fai sollevamento, con il classico NIOSH. Ok. E poi fai sollevamento e trasporto tenendo conto di frequenza e distanza. Quindi fai tutte e due. Fai tutte e due. In verità è una cosa un po' diversa perché il NIOSH è per compito che poi tu nella mansione andrai a inserire a livello di multicompito. Nel caso del trasporto tu avrai sempre una valutazione per lo più cumulativa. Cumulativa nel nel minuto, nell'ora e nel turno. Quindi però fai comunque tutte e due le vostre. Sì. Però non fai una valutazione del compito di trasporto. Cioè non dirai. Dirai faccio quel compito di trasporto che mi dura X sollevo X trasporto X oggetti per X metri che hanno un peso Y. Poi dico tizio farà questo compito questo e questo e lui fa la somma. Una mera somma. Fai una frequenza e sei identi le frequenze. Sì. Esatto. E lui fa di calcola ogni minuto ogni ora e il turno i pesi cumulativi andando a verificare se non ci sono dei problemi. Qual è il problema grosso? È che per esempio sull'ora io potrei avere che all'inizio faccio un lavoro poco pesante per il trasporto e magari a metà giornata o un'ora di picco. Quell'ora potrebbe fregarmi. Quindi quando vi farò vedere poi i report del trasporto noterete che è un report molto complicato perché vi dirà per ogni ora di lavoro anzi scusate per ogni minuto di lavoro quant'è il peso cumulativo fino ad allora. Perché io potrei avere che il peso cumulativo nell'ora limite lo supero non alla fine di un'ora ma a metà perché ho fatto per mezz'ora un compito molto sovraccaricante ma non abbastanza da superare l'ora. L'altra mezz'ora faccio un compito meno pesante ma che sommato a quello di prima su quell'ora mi fa sballare. Quindi è un report molto complicato quindi mi devi fare l'ora con tutti i pesi che hai sollevato e trasportato in quell'ora che non devono superare un certo valore che sono poi questi tipo 750 kg se fai un trasporto superiore ai 10 metri vi faccio notare una cosa ipotizziamo un trasporto superiore ai 10 metri 8 ore 6 tonnellate se io quindi ho un superiore ai 20 metri se qui metto che la durata 8 ore massimo 6 tonnellate non è rispettato automaticamente metto questo ma soprattutto metto anche questo ma perché il superiore non è rispettato perché perché sostanzialmente per la ISO 11228 la condizione di accettabilità è uno no sul trasporto non è come il naio ce le facce è uno no quindi se supero 1 se sono sotto è verde se sono so per rosso facilmente avrai sulla risposta dopo il rosso la condizione critica quindi occhio sempre perché è possibile che vi ritroviate in quella situazione non è non c'è questo automatismo perché poi potrei avere delle condizioni particolari ad esempio condizioni critiche quali sono per esempio posizione verticale lui mi dice che se prelevo un oggetto ha più di 175 cm da terra i piedi condizione non accettabile perché ma perché sopra i 175 guarda fermati è inaccettabile nel naio ha un'altezza superiore ai 175 il coefficio il moltiplicatore di altezza è peso di riferimento per 0 fa 0 peso sollevato fratto 0 rischio infinito quindi lui mi dice guarda fermati qua perché tanto se vai oltre ti darà un rischio infinito quindi ti blocco già adesso ed ecco allora spiegato tutto questi punti non sono altro che i parametri limite del naio frequenza più di 15 sollevamenti in breve durata andate a vedere la tabella del naio coefficiente di frequenza 0 cioè questi sono tutti quei parametri quegli elementi che applicando il naio darebbero un peso di riferimento nullo e quindi ti dicono fermati qua dal vostro punto di vista diventa interessante andate dal datore di lavoro e dici guarda ho finito la valutazione come mi avrei preventivato 10.000 euro e in metà giornata l'hai fatto e sì perché quell'operazione non posso andare oltre il rischio è inaccettabile se non mi togli quella condizione io non posso fare il passaggio successivo o meglio lo posso fare per puro spirito di calcolo ma so già dirti qual è il risultato attenzione e se io ho tanti compiti e uno di questi lo supera cosa faccio qui metto on off faccio 20 compiti nella giornata uno di questi supera i 175 cm e qui cosa metto perché tanto quando farò il singolo task viene zero e ricordate che nel composite lift index quindi il multicompito del NIOSH parte dall'indice di rischio del compito peggiore e gli aggiunge cose tradotto l'indice di rischio giornaliero non sarà mai inferiore all'indice di rischio peggiore della giornata quindi quando calcolerete il compito più gravoso saprete già che giornali al livello giornaliero meno di quello non è al massimo è poco superiore anche se lo faccio per errori per 5 minuti ricorda lì i minuti vanno a influire cosa sulla durata breve media o lunga adesso non entriamo nel merito però trovate una mia news su unsafe che vi spiega come calcolare la durata però breve è inferiore ai 60 minuti purché seguito da un riposo di almeno una volta e mezza Aldo non mi ricordo già più il riposo per la durata breve non mi ricordo anche più non mi ricordo più comunque se lo andate a vedere nel naio se trovate durata breve comunque è inferiore ai 60 minuti però con un periodo di riposo molto importante se noi andiamo ai 120 minuti la durata media oltre ai 120 minuti è già durata lunga e tra l'altro questo poi su unsafe quando si fa la valutazione approfondita quando devi assegnare i tempi devo tenerne colte devi tenerne colte e soprattutto per dire se tu hai un compito che dura per dire 2,5 ore che gli dia al 2 o che gli dia al 5 come numero inseriti in quella cadena lì uguale perché tanto vive di queste tre fasce del naio breve inferiore ai 60 minuti purché con un adeguato riposo dopo durata media massimo 120 minuti purché seguita da un periodo di riposo oppure altrimenti in ogni caso lunga riposo può essere altra attività altra pur che non affaticante per cosa per la schiera c'era anche la definizione no è attività non affaticante che è diverso dall'ocra dove invece hai un altro discorso ok dove invece hai proprio le pause devi avere proprio le pause in quel caso ok quindi proviamo l'impiegato l'impiegato presenza di temperatura estrema bassa o alta no presenza di superfici scivolose instabili o dislivelli potrebbe anche darsi ma ipotizziamo di no ipotizziamo che prenda proprio il dossier nell'ufficio faccio pure un'attività molto semplice ma io solo una cosa nella domanda temperatura o alta o bassa ci basiamo su una percezione o in teoria dovrebbe basarsi no potrebbe essere sull'analisi microclimata climatica qui parla di temperature quindi mi baserei proprio su una mera temperatura che ne so superiore ai ipotizzerei non lo so 25-30 gradi oppure bassa inferiore che ne so ai 15 gradi non so per esempio qua avrei un dubbio e mi chiedevo ma di basso magari sulle risposte che mi danno loro cioè no no perché quello ma ma sai che se hai uno che ti dice no ma qui c'è da schiattare diventa difficile dire non faccio un'analisi di dettaglio perché poi ad esempio nell'ocra ce l'hai nell'ocra hai nei nei complementari non mi ricordo se hai la temperatura oppure oggetti freddi non mi ricordo le temperature possibile però qui siamo sul sollevamento allora 1 a 1 è per la durata media però per la durata breve se non sbaglio mi pare una volta e mezzo o una volta e due bisogna vederlo sulla norma perché la durata media sì è 1 a 1 però la durata breve secondo me è più di 1 a 1 dunque se volete poi lo vediamo vediamolo un po' vediamo un attimo tanto ce la vediamo qua così ci togliamo il dente andiamo a vedere ok frequenza questo è buono allora questa è la presa ecco qua durata breve durata inferiore all'ora e almeno il 120% della durata dei compi sull'evento continuo e ripetitivi come periodo di riposo richiesto cioè se io sollevo per 45 minuti e mi riposo per 54 è una durata breve 45 minuti e riposo per 54 che è il 120% o un'ora e allora è durata breve quel compito altrimenti sollevo per 45 mi riposo per 30 e riparto diventa come minimo media se è meno di due ore e ho un recupero pari al 30% della durata dei compiti di sollevamento allora è riposo è durata media quindi faccio magari un'ora di sollevamento un'ora e mezza e mi riposo per 30 minuti almeno ok allora è durata media se mi sollevo sollevo per un'ora e mezza ma poi faccio 15 minuti e riparto e faccio un'altra ora e mezza contano come tre ore anzi tre ore un quarto perché si somma a quel punto si somma il periodo di riposo diventa durata del compito e a quel punto vado in durata lunga anche se in verità ho sollevato tre ore scusate ho sollevato sì tre ore ma a compiti di un'ora e mezza all'uno però si sommano perché tra uno e l'altro non c'era abbastanza riposo e sopra il 30% sei lunga in automatico no se fai meno del 30% di riposo se fai meno del 30% se fai meno di due ore al giorno e comunque i compiti sono intervallati per almeno il 30% ok allora ci sei sei lunga sei sei in breve sei in breve se io sollevo per due ore sì poi mi fermo le altre due ore non faccio nulla riparto il pomeriggio e faccio altre due ore durata media perché io perché mi sono riposato ok è come se fosse ripartito da zero se io sollevo per un'ora e mezza quindi 90 minuti mi riposo per mezz'ora che è 30% di 90 e 27 mi riposo beh durata media riparto un'altra ora e mezza 30 minuti vedete ho fatto due ore due e due e quattro quindi nella mattinata ho fatto un'ora e mezza di sollevamento 30 minuti di pausa un'ora e mezza di sollevamento 30 minuti di pausa ok durata media perché avevi comunque dei tempi di recupero perché ho avuto dei tempi di recupero tali da permettermi di azzerare non del tutto ma azzerare in durata media invece uno dice no ma voglio andare a durata breve allora scendo a un'ora va bene scendi a un'ora però il recupero deve essere di un'ora e venti di un'ora e e dodici minuti un'ora e un quarto per andare in pausa in una fascia breve non ti basta più quella mezz'ora di prima oh cavolo e allora scende molto la produttività vero sta in media cioè il ragionamento è durata breve media su altro per eventualmente durata breve media o lunga non dovete vederla solo in termini di durata ma proprio di affaticamento sarebbe stato magari più chiaro se avessero detto affaticamento ridotto affaticamento medio affaticamento prolungato perché di per sé è un termine che durata media breve e lunga non è solo una questione di durata del compito ma anche di recupero cioè andare in durata breve non è così semplice tra l'altro ok quindi ipotizziamo che non ci siano cose del genere che ci sia adeguato spazio che la dimensione dell'oggetto non riduca la visibilità è un dossier il baricentro del carico non è stabile no c'è la carta però è pinzata è bloccata non è un problema la forma dell'oggetto presenta spigoli appuntiti o sporgenze no vabbè cartone le superfici di contatto sono troppo calde o fredde no la durata dei compi di solerento durano più di otto ore al giorno no l'impiegato sollevamento ecco da tre a cinque chili niente asimmetria no il dossier è abbastanza omogeneo cioè non mi richiede torsioni il carico viene tenuto vicino al corpo sì non ho bisogno di tenerlo lontano il dossier me lo prendo vicino per la simmetria è un utente del corpo che si fa portando no la simmetria devi prenderlo sul metodo NIOSH che è la rotazione l'angolo di asimmetria che tu formi rispetto al carico occhio una cosa poi ne parliamo dopo nel NIOSH quando si parla di angolo di simmetria non è solo voi che vedete ruotare la schiena ma è io parto in una determinata posizione l'oggetto è in un'altra e lo porto in un'altra ancora e allora faccio questo movimento ok perché a quel punto l'angolo di asimmetria non è uno più uno l'angolo di asimmetria è l'apertura tra i due ok oppure se fate la valutazione doppia punto di prelievo è la rotazione l'angolo di asimmetria che ho in quel momento al rilascio ho quest'altro angolo di simmetria ma se io parto con l'oggetto dritto l'angolo di asimmetria la presa è zero se lo prendo e ruoto l'angolo di asimmetria rilascio è l'intero arco dell'angolo ok o lo spezzi in due o lo consideri unico se lo consideri unico vuol dire che parti dritto all'oggetto però fai una grossa torsione per andare dall'altra parte se invece tu parti a metà prendi un oggetto da un lato e lo porti dall'altro la simmetria non è l'angolo completo perché tu in verità non parti da qui non fai quest'angolo di torsione fai quest'angolo che è questo meno questo e questo separati che è molto meglio cioè se l'oggetto ti arriva da un punto ti conviene che tu sia a metà la formazione oppure se io vedo le persone che scaricano da una linea e portano all'altro cosa devo fare? eh? si sposta il punto di rilascio sposto il punto di rilascio così lui è obbligato a ruotare perché lui perché fa la torsione perché così fa prima ma se tanto ti devi ruotare puoi fare dei passi a quel punto non ruoti sollevi ti giri e vai sposti i bidoni un po' lontano così tu non fai la torsione lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche le spalle vuol dire anche scendendo con le gambe dice ma si tanto prendi il dossier dall'armadio e lo metti al piano di sotto o sulla scrivania ok ci siamo frequenza massima meno di 5 sollevamenti al minuto 3 3 al giorno va bene dossier un po' più pesanti tra 5,1 e 10 kg niente asimmetria carico tenuto vicino al corpo spostamento tra anche e spalle meno di un sollevamento al minuto non sono presenti carichi più di 10 kg ecco queste condizioni capirete che sono rispettate dall'impiegato cioè l'unico dubbio potrebbe averlo per l'impiegato che magari deve portare in archivio il dossier e allora ai dislivelli e allora alle scale però a quel punto forse potrebbe essere ragionevole un carrello con le tre ruote per scendere i gradini per usare un ascensore a usare altri sistemi che magari ci permettono di escludere quel lavoratore in tutti questi casi verde quindi quando fate una valutazione a un impiegato potete già partire diretti e dire è sicuramente verde perché ho fatto la mia quick assessment e se arriva quello che dice no ma dimostrami che guarda te lo dimostro con una norma tecnica quella norma tecnica dice che il rischio legato al sollevamento di un impiegato è verde la stessa norma però mi dice occhio che se io sollevo più di 10 kg forse anche una volta al giorno non ho più questa certezza del rischio accettabile automaticamente devo andare a fare una valutazione di dettagli ok ok io ho fatto il corso la settimana scorsa un corso a 50 oggi in francesa che sono quali forzioni di forze e la cosa che ho fatto solo 4 ore nel primo modulo le devo vedere altre due volte l'ultima data è il 5 novembre la ragazza dove si lamentavano tutta la postura non è un'immunitazione non è un'immunitazione non è un'immunitazione è che c'è che di per sé quando uno dice guarda movimentare i carichi ci fa male è vero non c'è dubbio su questo non si può negare tanto che l'81 sulla movimentazione manovare i carichi fa un gioco un po' particolare e ti dice è presente la movimentazione manovare i carichi si elimina ma aspetta un attimo valuto no elimini se non puoi dimostrare no mi chiamo ricordo se non puoi eliminarlo allora valuta però devi eliminarlo se tu puoi meccanizzare se puoi usare dei carrelli se puoi fare un sacco ne devi fare non puoi non farle perché il rischio è talmente elevato come dimostrano le statistiche che è pensare di dire sì vabbè ma me la gioco con la valutazione è un escamotage la valutazione serve veramente per i casi dubbi se guarda allora posso fare qualche domanda di questa tabella per capire i valori o no bisogna sempre stare attenti uno dice ma io gli scrivo questo gli dico che non è accettabile poi vanno dai capi dicono tu ci fai fare cose non accettabili no perché io lo farei a tutti io su 40 allievi tranne una che era l'unica donna che nel diritto che lei faceva un altro lavoro al terminale tutti gli altri avevano un'impresione di maggiori grossi carichi guarda secondo me quello che puoi fare è chiedere all'azienda o all'RSVP se ti danno delle informazioni specifiche sul tema quindi se hanno fatto delle valutazioni di dettaglio quali sono i compiti più pericolosi e perché e allora sì che informazione entra perché quello che dicevano ad esempio esatto esatto a me è capitato delle aziende dove non usavano alcuni presidi che l'azienda aveva messo a loro disposizione perché li trovavano scomodi perché ritenevano di fare più veloce senza quindi se no fermi un attimo voi i dispositivi che avete se decidete di non usare a quel punto la formazione diventa non tanto avete ragione occhio che voi avete in mano una serie di presidi finalizzati a ridurre il rischio a un livello accettabile il fatto che voi decidiate di non usarli determina il fatto che quando capiterà la malattia professionale e capiterà facilmente la malattia professionale in base alle statistiche il datore di lavoro sarà in grado di dimostrare almeno in parte di aver adottato le misure e quindi non è detto che l'INE non vi rifiuti la malattia professionale determinando cosa che tu perdi il lavoro per inabilità e non hai la pensione perché l'INE te la rifiuti e rimani col cerine in mano se invece il datore della valutazione risulta rosso perché capita dice guarda se è vero avete un rischio rosso quindi l'azienda si fa carico sostanzialmente di quel rischio perché se un'azienda dice che la valutazione è rossa e chiaramente si fa carico dice prendo atto e deve farlo ci mancherebbe però vuol dire anche una missione dice guarda se hai disturbi alla schiena è dovuti al lavoro quindi ti meriti la pensione poi io me la dovrò vedere con l'asne colline che mi cominceranno a chiedere ma perché ma per come è ok però ne prendo atto poi magari sai qual è l'iter corretto faccio la valutazione scopro di scopro di far schifo a quel punto faccio un piano di miglioramento quindi da molto schifo divento a meno schifo arriverò a verde difficile però invece che viola magari sono rosso magari che rosso 250 sono a rosso 180 la prossima ISO 11228 parte prima si dice che potrebbe alzare la zona di accettabilità a 2 da 1 a 2 perché pare che statisticamente tra 1 e 2 non ci sia un incremento di malattie professionali e quindi magari tu che sei passato da 2 e 8 a 1 e 8 esce la nuova norma e ti scopri nel verde o se non nel verde nel giallo ok il problema è vero che molte aziende o non valutano un rischio o non lo carano oppure che hanno malattie e non lo carano e non lo valutano proprio per evitare di avere compro oppure giocano giocano per arrivare al verde e sarebbe meglio un fattore di lavoro un RSVP parlarvi per preparare al meglio la risposta da dare al diere c'è un problema di fondo in questo paese che la malattia professionale riconosciuta determina l'apertura del fascicolo alla procura della Repubblica questo significa che c'è un grossissimo incentivo all'azienda a dire che il rischio non c'è perché se il rischio non c'è la malattia non viene riconosciuta se il lavoratore fa causa magari scoppia un casino perché a quel punto hai una valutazione mendace e a quel punto ti fanno un mazzo tanto ma se il lavoratore non fa causa l'Inei dice è ben felice di dire la malattia non c'è non la pago e quindi la cosa non c'è quello che dobbiamo essere bravi noi invece a far capire all'azienda guarda dire il verde non è corretto non solo dal punto di vista tecnico ma anche etico perché tu stai impedendo a dei lavoratori che svilupperanno una malattia comunque legata al lavoro che tu gli hai fatto fare non gli permetterai di avere la pensione di cui hanno diritto quindi è una cosa veramente brutta da fare non va fatta e noi non dobbiamo prestarci dobbiamo al massimo dire sai che c'è io ti do il word vuoi fare le porcate fatte togli la mia firma tolgo la mia impostazione ti mando il word guarda ti do la relazione fatta modifica quello che vuoi tu io non ci metto male noi dal nostro lato dobbiamo insegnare all'azienda a dire guarda prendi atto di dove sei in modo che riusciamo a capire dove migliorare e vale molto di più davanti a un giudice una situazione brutta migliorata che non una situazione bella falsa e poi ricordate sempre una cosa la rivalsa di per sé sia solo in caso di condanna del datore di lavoro allora il giudice non è che ti condanna perché lui ha avuto mal di schiena ti condanna se questo ha avuto mal di schiena e tu non hai fatto nulla per evitarlo e tu dir guardi io ero nel 2018 ero così ho fatto questo 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 partendo dalla valutazione che mi ha detto quali erano i compiti più valori e di quei compiti quali erano i parametri che mi fregavano ci ho lavorato sopra e l'ho ridotto accettabile no non è accettabile perché la mansione stessa c'è un edile non potrà mai essere né giallo né verde è inevitabile però magari invece che essere viola è rosso rosso alto vero ma rosso e uno dice guarda ho fatto questo deve essere stato sapete che seguo una grossa catena di retail e lì il lavoro è stato individuare quali erano i punti vendita più critici devo montare il montacariche in tutti i negozi non ho i soldi per farlo eh sì monto tutto chi se prega non ho i soldi su quali devo puntare questa la valutazione te lo dice in fondo la valutazione dei rischi serve solo a quello a dare le priorità perché se uno dicesse ho budget infinito non ho vincoli strutturali non ho vincoli tecnologici non ne frega faccio tutto non devo neanche fare la valutazione metto tutti i paranti metto tutti i manipolatori e finita lì rischio zero benissimo ma visto che potrei non avere questa possibilità per motivi tecnici per motivi di risorse non di ho o per motivi materiali relativi a come va fatto perché magari ho dei vincoli dettati dal cliente o dai cantieri questo è il mattatoio che avevamo visto il mattatoio dove devi macellare non puoi pensare di eliminare la documentazione di compiti rettive e non lo può fare la macchina perché in certi tagli non lo fa quindi lì devi metterci partida sicuramente la Rossi Iona e poi cerchi di mostrare che stai facendo i passi in avanti per non andare ok quindi ipotizziamo che magari ho una o più condizioni aggiuntive ecco che I'm safe mi dice guarda andiamo in una situazione un po' dubbio non ti so dare una risposta e a quel punto dobbiamo entrare con la valutazione di dettaglio ed ecco andiamo a vedere una valutazione di dettaglio partiamo da una nuova nuova sollevamento proviamo prelievo di sac di bacinelle secchi d'acqua pieni pieni nuova movimentazione ecco voi immaginate quindi un addetto alle pulizie va al rubinetto col secchio riempie quel secchio lo solleva e lo mette magari sul suo carrello ok descrizione l'operatore riempie di secchio di acqua alla presa quindi lo solleva e lo inserisce nel carrello per le pulizie peso medio 9 kg peso massimo 12 kg condizioni sfavorevoli sono temperature scalini le trovate nella iso tr 12295 ipotizziamo di no e veniamo qui al naios il naios come sapete si basa su alcuni parametri geometrici legati alle operazioni di prelievo e rilascio quindi vedete qui che ci sono le due colonne il prelievo e il rilascio la iso 11 228 parte prima dice che si considera il rilascio solo in caso di precisione nel rilascio in verità il consiglio è di farlo sempre cioè l'unico caso in cui posso permettere di non fare il rilascio è quando l'oggetto lo lascio cadere e allora ok sono lì mollo ma anche quando prendo un dossier e lo posiziono su una schivania lì ho un'operazione che mi richiede comunque non dico una precisione come dice la norma ma che può avere un incluso perché pensate noi facciamo tutti i calcoli sul punto di presa che è bello tutto perfetto e poi lo rilascio a questa distanza non posso non considerare che un rischio ci sia no? quindi fatelo sempre entrambi presa e rilascio sono 60 cm cosa? la distanza da parte dal baricentro al punto di rilascio e dipende da quando lo rilascio devi misurare mi sembra che una delle domande che ti prevedeva poi no quello è 63 cm oltre 63 cm di distanza orizzontale il 9 va a 0 è inaccettabile qual è 63 cm cos'è la lunghezza del braccio perché? perché a quel punto dovete fare così no più grande dovete far clicare la schiena sicuramente non ci arrivate con la schiena dritta perché è più lungo distanza orizzontale ok qual è la distanza occhio che la distanza è la distanza tra allora lì ci sono due versioni il 9 parla di baricentro dell'oggetto la ISO 11 228 parla di punto di presa tra il palmo delle mani che potrebbe essere la stessa cosa ma solo se prendo l'oggetto dall'altezza del baricentro che non è così automatico potrà avere delle maniglie disassate e che tra l'altro aumentano il rischio perché è vero le mani sono più vicine ma il baricentro è un po' più lontano oppure questa torsione però ipotizziamo che più o meno coincidono occhio una cosa la distanza orizzontale vediamo nella ISO 11 228 la distanza orizzontale misurata dal punto mediano della linea che unisce le caviglie al punto mediano nel quale le mani afferrano l'oggetto mentre è in posizione di sollevamento quindi caviglie dal punto mediano delle caviglie quindi vuol dire che quando sono in piedi la distanza ipotizziamo che prendo l'oggetto bene quindi il punto di prelievo alla distanza è la stessa del baricentro quindi l'oggetto qua la distanza è da qui non a qui ma da qui a qui la metà del rachide quindi vuol dire che la distanza orizzontale è data dall'oggetto quindi la distanza tra il baricentro e il porto dell'oggetto più la mia pancia fino alla schiena ci sono gli esempi ma perché sì anche certo e mettendo la parte introduttiva voi avete tutte le dimensioni però questo è per farvi notare come quando voi vedete delle valutazioni con distanza 25 allora o l'oggetto è piccolo piccolo e uno se lo tiene proprio attaccato ma provate con un metro provate con un metro a prendere 25 25 cos'è? è la distanza sotto la quale il moltiplicatore è 1 cioè non influisce cioè le mani devono essere così Aldo va bene ma no talmente io e te ce la facciamo già bene ok è proprio difficile deve essere proprio un oggetto piccolo piccolo una scatoletta se già è una scatola così vado ai 40 se già è una scatola un po' più grande tranquillo vado ai 60 occhio una cosa ci sono due parametri che ammazzano l'indice la frequenza e la distanza orizzontale vi rimando a un post che avevo fatto su Facebook come lo trovate anche su Amsafe dove avevo impostato un file di Excel dove facevo vedere come variavano gli indici di rischio al variare in percentuale dei singoli parametri noterete che molti parametri addirittura c'è un parametro che rimane sempre praticamente verde e poi diventa inaccettabile uno che diventa verde poi giallo inaccettabile invece le distanze orizzontali hanno tutto l'iter cioè già molto presto già delle variazioni molto ridotte hanno un abbattimento dell'indice molto molto forte quindi è qui che vi giocate tutto qui è nella frequenza qui vi giocate tutto tutto il resto sono parametri tanto che se studierete il BLA il variable lift index troverete che molti parametri non vengono neanche calcolati perché sono talmente poco influenti che vengono semplicemente trascolati non hanno sì e poi viene preso il caso peggiore dice guarda per esempio la presa prendo che è una presa scarsa tanto cos'è? 0,9 c'è un abbattimento del 10% ti cambia niente invece se voi pensate 0,3 di distanza orizzontale vi dà un indice di 0,625 perché vi ha già ammazzato a 0,4 avete 0,5 a 40 cm avete il dimezzamento del peso cioè se voi avete un oggetto che pesa 12,5 kg se lo sollevate a 40 cm di distanza avete già rosso a parte tutto il resto avete già rosso e poi c'è tutto il resto c'è ancora gli altri parametri c'è ancora la frequenza da gestire quindi occhio a quello che è un parametro veramente molto importante ipotizziamo 0,4 con un rilascio diciamo sempre a 0,4 distanza verticale a distanza verticale è tra il palmo delle mani e dove appoggio i piedi quindi se devo sollevare un oggetto ricordate massimo 1,75 se devo arrivare a 1,80 ma non voglio sballare col naio cosa devo fare? devo usare una scaletta devo usare una scaletta ipotizziamo che il punto di prelievo beh in questo caso per esempio potrei anche ipotizzare che la distanza orizzontale sia molto bassa se voi ci pensate perché a quel punto prendo l'oggetto molto vicino però ipotizziamo che invece non faccio un gran movimento buono e prendo il secchio così distanza verticale ipotizziamo di nuovo 40 centimetri che sarà il manico da terra e lo rilascio che ne so a un metro perché dopo sopra lo metto anzi no un metro no troppo 07 perché lo mette sopra il piano sotto dove ci sono le ruotine prendo il secchio e lo mollo lì distanza la distanza è la distanza tra l'escursione massima che fa l'oggetto generalmente è la differenza tra il punto di rilascio e il punto di prelievo lo prendo a 04 lo porta a 07 la distanza la distanza è 0,3 ok non è detto però ipotizziamo che in mezzo ci sia un ostacolo per cui devo prendere far superare quell'ostacolo e portarlo giù la distanza non è tra il punto di rilascio e il punto di prelievo ma tra il punto di prelievo e la massima altezza che ho per portare l'oggetto e poi portarlo giù uno più alto? no uno e al rilascio potrei avere l'altro naturalmente prendo il peggiorno angolo di asimmetria se prendo l'oggetto dritto non ho problemi se lo prendo di lato perché lo devo ecco a quel punto uno li vede dice come fai? eh prendo i secchi e me li porto fuori dopo il carrello ok zero perché tanto sicuramente vi raddrizzi nel percorso presa presa buona scordatevi allora cos'è una presa buona di nuovo? ve lo dice la norma la ISO 11228 e vi dice che è buona se l'oggetto può essere afferrato avvolgendo la mano in modo confortevole attorno all'impugnatura e alle scanalature per le mani dell'oggetto senza significative deviazioni del polso occhio magari se quando faremo l'oca ne parleremo le flessoestensioni le abduzioni del del polso sufficiente se l'oggetto dispone di manici o scanalature che non soddisfano i criteri di buona qualità scarsa se i criteri di buono o sufficiente non sono applicabili soddisfatti adesso non so ecco non so se lo troviamo qua o nella lo trovate nel NIOSH nel revised edition del NIOSH troverete la dimensione che devono avere le maniglie per poter essere buone adeguate o scarse quindi troverete delle indicazioni sulle dimensioni gli angoli e compagnia cantante in generale una scatola in questo caso potrei dire accettabile perché ho la maniglia quindi presa o lo più presa palmare persone 1 mani 2 ipotizziamo che invece solleva con 1 metto mano 1 dipende se prendo così o se prendo così ok 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 mansioni coinvolte addetto pulizie base frequenza azioni al minuto qui ne fa una ecco considerate quando io ho un lavoro occasionale che viene fatto una volta al giorno io cosa metto frequenza minima quindi 0,2 durata minima 0,5 quindi lui mi prenderà un indice di frequenza pari a 1 questo mi dice il NIOSH stesso mi dice che in caso di lavori occasionali metto il valore che mi dà un indice di frequenza 1 cioè non non influisce la frequenza non c'è bisogno di fare i cattoli a su no se invece chiaramente ho che questa magari carica i 4-5 carrelli delle colleghe che poi vanno ai piani lo guardo e dico quanti carrelli secchi carichi 2 per ognuno uno con l'acqua col detersivo uno con l'acqua senza detersivo 2 quanto ci metti sono 5 colleghe sono 10 secchi ci metto generalmente un'ora ok a questo punto avrò 1 fratto 6 è sempre 0,2 durata in ore magari 1 giusto per vedere come funziona guardiamo invece il ritorno ovvero le colleghe tornano e io devo svuotare i secchi abbiamo detto 9,12 presa orizzontale 0,4 qui potrei avere rischio anche un po' di più ma diciamo 0,4 magari vado con i piedi sotto faccio un po' di formazione 0,4 verticale abbiamo detto che lo prelevo a 0,7 ipotizziamo che il lavandino sia 1 metro a cui aggiungo 40 cm quindi 1,40 che è l'altezza a cui lascio il secchio poi è vero che lo rovescio ancora ma non è più un sollevamento semplicemente lo faccio inclinare quindi 1,4 distanza 0,7 angolo diciamo sempre 0 presa diciamo accettabile prima accettabile dopo persone 1 mano 1 mano 1 mansione nuove abbiamo detto facciamo la stessa scena quindi 0,2 durata un'ora a questo punto andiamo sulla mansione e andiamo a vedere i sollevamenti ecco guardate viene un 2,23 2,79 allora 2,23 composite lift index per il maschio adulto 2,79 il composite lift index per una femmina adulta 2,79 uguale per il maschio giovane e anziano e invece per la donna giovane e anziana 3,72 quindi viola ma per giovane se intendo il suo clima ha di sotto dei 18 anni è maggiore di 45 guarda lo vediamo nella nella dovrebbe esserci sulla tabella andiamo sulla ISO TR questa era la ISO TR ecco 18,45 quindi una donna giovane vuol dire inferiore ai 18 anni quindi ok adesso vediamo da dove deriva però perché dice ok abbiamo questo indice di rischio importante ma da dove deriva no inferiore ai 18 giovane 18,45 adulto oltre i 45 anziano allora vediamo dalle schede di calcolo cosa viene fuori cambiamo solo la schermata vediamo se riusciamo no dopo non compare non si riesce a farla visualizzare e la faccio vedere da qui ecco qui vedete i vari moltiplicatori che vengono fuori chiaramente qui devo guardare più il numero facciamo così con nome così lo posso si vede anche poi dopo nel video allora lo vediamo da qui così così si vede anche nel video allora ecco qui vedete quindi i vari valori con il rispettivo moltiplicatore chiaramente su cosa devo lavorare su quelli che hanno un moltiplicatore più basso di tutti per esempio qui mi viene da dire ecco lo svuotamento dei secchi risulta essere l'attività più gravosa perché lui li mette in ordine di maggiore gravità e mi dice che ha un indice di rischio se lui facesse solo questo avrebbe comunque un indice di rischio di 1,16 vedete che ha un valore di 0,42 cioè se io trovassi il modo di ridurre la distanza che le mani hanno dal corpo quando il secchio viene posato migliorerei la cosa perché avrei un valore che magari da 0,42 mi va 0,63 che comunque è il 15% in più non è male anzi il 21% un valore di 0,21 non è niente male ok perché poi tutti questi valori si moltiplicano quindi quello 0,21 che ho in meno me lo sporto dietro su tutto se avessi quello in più sarebbe una bella differenza poi ho l'altro valore 0,63 che riuscissi a avvicinarlo andrebbe ancora meglio le mani per esempio se facessi la formazione e gli dicessi invece che usare una mano sola per sollevare il secchio usatene due vediamo come cambia li formiamo e gli spieghiamo di usare due mani quindi di non fare gli eroi vediamo come cambia guardate lì lo vedete già qua perché? perché quello era un indice che abbassava molto mi sono già tolto un bel problema l'altro effettivamente è meno gravoso l'altro compito quindi ad esempio su riempimento uno dice ma cos'è che ci prega riempimento è tutto lo svuotamento non lo svuotamento il riempimento diciamo che dà l'ultima mazzata però è lo svuotamento che ci frega che ci dà subito un valore molto molto alto a cui poi si somma quello dopo chiaro? sì ci possono essere dei casi in cui la variabilità non vi permette di individuare dei compiti ma proprio può capitare di tutto perché voi immaginate ad esempio sbancalare un bancale non hai due compiti hai un oggetto qui un oggetto lì un oggetto lì gli oggetti a quest'altezza a quest'altezza a quest'altezza a quest'altezza e allora a quel punto bisogna usare il variable lift index lì trovate un file in excel nel sito di EPM che vi permette di calcolarlo qual è però la fregatura del VLI e che è un valore prettamente statistico cioè ti dice l'indice di rischio è questo assolutamente valido per calcolare la possibilità di sviluppo di malattia ma non vi da non vi ritorna questa indicazione cioè ti dice guarda che l'elemento che ti frega è quello la distanza dell'oggetto in quell'operazione questo non ve lo ritorna il VLI quindi va bene se volete calcolare l'indice di rischio è estremamente affidabile però se volete fare un'analisi ergonomica dei compiti e capire qual è che vi frega facilmente dovete usare questo piuttosto non lo usate per calcolare l'indice cioè caricate le operazioni andate a vedere cosa vi frega quali sono i compiti con l'indice maggiore e su quelli lavorati c'è ancora un elemento però i sollevamenti e trasporti scusa Fabio vai ah sì allora cosa succede io potrei avere la necessità di sollevare in due a quel punto vado sulle movimentazioni e posso mettere due persone attenzione il peso va dimezzato sì perché poi lui cosa fa quando si usa in due lui applica un demoltiplicatore quindi aumenta l'indice di rischio di 0,85 quindi se sollevo se il peso di riferimento era 20 sollevandolo in due diventa 17 poi si divide in due diventa 8 cioè il peso che poi sollevo lo divido in due però il punto di riferimento non è 20 ma 17 perché è dovuto al fatto che essendo due persone potremmo non capirci e quindi non è proprio un dividerci il peso alla pari però il numero che lui inserirei è la metà è la metà perché fallendo il correttivo non lo fa lui no non lo fa lui cioè non penso perché non lo so va approvato lo divide già lui è possibile non mi ricordo sinceramente però penso sì forse hai ragione forse faceva già lui la divisione io l'avereo fatto l'evalutazione no forse hai ragione forse l'avevamo già inserito che lui divideva per due il peso sì sì si perché poi tra l'altro lui permette anche i tre le tre persone in base alla ISO TR12295 possiamo mettere anche tre persone sì difficile perché tre persone vuol dire che bisogna essere già un po' fiatati è sempre uno che fa esatto quindi è anche proprio un po' difficile arrivare a quei livelli ecco veniamo invece adesso ai sollevamenti e trasporti anche qui decidiamo definiamo dei compiti in questo caso prelievo dei secchi e no carico dei secchi voi direte ma l'hai già fatto lì sì però io questo secchio dopo averlo riempito esco dal bagno e lo carico quindi ci metto una certa distanza nuova movimentazione descrizione l'operatore riempie i secchi nel bagno dei disabili usando la doccetta quindi trasferisce i secchi sul carrello delle pulizie all'esterno del bagno oggetti abbiamo detto due per ognuno avevamo detto cinque quindi dieci peso facciamo abbiamo detto peso medio nove distanza tre metri carichi difficili da maneggiare no ambiente troppo freddo e caldo no significativo numero di scale no cos'è significativo numero di scale no no perché quello che abbiamo fatto è un ciglio e lei non fa la trova in centro esatto vedi sollevamente trasporto scarico dei secchi anzi facciamo una cosa facciamo a differenza del sollevamento nel caso del trasporto è assolutamente identico gli oggetti sono gli stessi i pesi sono gli stessi le distanze sono gli stessi quindi facciamo copiamo l'operazione scarico dei secchi l'operatore svuota i secchi nel lavandino del bagno dei disabili oggetto 10 pesi 9 distanza uguale salva andiamo adesso sulla mansione sollevamenti e trasporti e aggiungiamo un compito di sollevamento carico dei secchi durata abbiamo detto un'ora ah qui dobbiamo fare una cosa un po' particolare dobbiamo vabbè sono tutte di un'ora se avete compiti inferiori all'ora dovete caricare anche i compiti di non sollevamento di non trasporto perché se voi mettete due compiti da 30 minuti che però vengono fatti in due ore diverse lui poi ve li somma nella stessa ora e quindi rischiate di superare quindi il consiglio è di caricare tutti i compiti che vengono fatti in quella giornata gli mettete sollevamento e trasporto pulizia dei locali dove metterete zero oggetti zero peso zero distanza no 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 perché lui cosa calcola calcola se voi andate a prendere la ISO 11228 parte prima 228 parte prima troverete sostanzialmente questo la massa accumulativa per minuti per ora è nelle otto ore quindi non necessariamente per esempio in quel caso se io ho impostato due compiti da 60 minuti va bene così perché perché o calcola l'ora o calcola le otto ore ma se io adesso dei compiti inferiori ai 60 minuti se fossero è uno di seguito all'altro e quindi nell'ora si sommano allora lì devo stare attento devo intervallarlo con i compiti eventualmente che non hanno trasporto in modo da coprire le ore non so se mi sono spiegato allora io la mattina pensiamo ecco pensiamo questa questa persona quindi carica i secchi delle colleghe poi fatto questo le va a aiutare a pulire poi a fine diciamo fine mattinata facciamo finta che sono dei part time a fine mattinata scarica i secchi delle colleghe perché magari le colleghe sono categorie protette quindi è solo lei che può farlo a questo punto mettiamo pulizia dei locali un'ora per caricarli un'ora per scaricarli più le due di pulizia non me l'ha caricato cosa ho sbagliato forse perché non ho messo neanche non ho messo neanche un mettiamo così oggetti mettiamo 100 è per fargli riconoscere il calcolo proviamo così eh no ho fatto eh ho fatto un pasticcio no devo mettervelo devo caricarlo in maniera diversa aspetta no forse vediamo un po' adesso adesso non me lo da neanche devo eliminarlo un po' vediamo se così riusciamo a farlo funzionare ok non ti ho riconosci perché hai messo dei parametri a zero probabilmente i pezzi devo comunque metterli ma infatti vedi adesso me lo do cosa faccio? questo lo sposto su ripeto in questo caso non cambia nulla ma se io avessi delle durate inferiori all'ora per mettere l'ordine ipotizziamo di avere 30 guarda eh adesso vedi un orario di 0.36 allora se questo lo sposto su salvo stranezze dovrebbe aumentare vediamo un po' se mi riesce no perché? ah perché è peggiore questo devo farlo di 30 devo farlo di 30 anche questo perché se no mi prende peggiore di quello è sempre lo stesso ah giusto lo porto giù no vediamo perché adesso vi spiego qual è allora sollevante trasporto schede di calcolo ok Grazie. Vediamo subito da dove deriva quell'indice, a cosa è dovuto. Carico dei secchi, ha un istantaneo di 0,36. Ok. Quindi l'istantaneo, che è il sollevamento di quel minuto, è 0,36. Ah sì, giusto. No, lui prende come indice di rischio sull'ora come peggiore dell'istantaneo. Cioè prende il maggiore di quelli per calcolare l'indice di rischio. Ah, vedete che infatti a un certo punto l'indice, vedete che scende. Perché? Perché ha finito di fare le operazioni e quindi l'indice pesato in quell'istantaneo scende e poi riparte con lo 0,36. Quindi comunque sia sempre 0,36. Perché è il peggiore, perché l'istantaneo è il peggiore. Se vado a vedere sul, guardiamo, ecco, chilogrammi ora, vediamo che 90 sulla prima ora, dopo la prima ora lui ha sollevato 90 chili, perché sono 9 per 10. Quindi lui nella prima ora ha sollevato 90 chili. E quindi l'indice orario mi va 90 fratto distanza di trasporto fratto, ah, questo qui, fratto 3.000, fratto 3.000, che è quell'orario, chiaramente è trascurabile rispetto all'indice invece singolo del minuto. E quindi l'istantaneo vince su tutti. Questo punto, diciamo, sulle scorte interballare... In questo caso non cambia nulla perché l'indice istantaneo del minuto è superiore a quell'orario. E quindi l'indice di rischio che vince è quello istantaneo. Se io invece avessi dei pesi inferiori, e beh, cioè, non pesi inferiori, frequenze molto più alte, per cui l'orario magari mi cresce. E a quel punto supera lo 0.36, allora avrò dei momenti in cui vince l'istantaneo, dei momenti in cui vince l'orario. In questo caso vince l'istantaneo e quindi è lui che comanda su tutti. Cioè con frequenze più intervallate di cambi... No, se io avessi... L'operaio che mi forza avanti indietro i mascoffi, lo diremmo... No. E ne sono, diciamo, diversi. E allora in quel caso ci conviene fare quelle... Eh, se sei così che, diciamo, funziona. Vediamo carico dei secchi, ipotizziamo... Abbiamo detto 10 oggetti. Anzi a prendere uno dei secchi, magari. Vediamo se è così. Quindi l'istantaneo è cresciuto. Ah, vedi che adesso è cambiato l'orario. L'orario è superiore a quello istantaneo. Ho aumentato gli oggetti sollevati. E guarda, se li metto uniti, mi va a 0,62. Se invece metto l'intervallo di 120, lui scende a 0,55. Perché il secondo compito non l'abbiamo pompato e quindi rimane molto basso. Quindi influisce poco. Però aumenta perché a quel punto ho i due compiti che si sommano. Se invece li metto in mezzo, lui, sull'orario, per mezz'ora carica, è carica pesante. Poi però smette. Smette per 120 minuti, quindi l'orario scende. E ricresce poi con lo 0,30, ma ormai il valore di riferimento è dato da quello. Vedete che qui l'indice di rischio al minuto è addirittura molto molto basso. Questi qui, invece, sono gli indici di rischio in quell'ora specifica. Vedete che inizia da 60, no? Dopo 60 minuti, lui comincia a contare, a calcolarvi l'indice di rischio di quel minuto, fino ai 480. Eh sì? Perché io potrei avere nel corso della giornata degli andamenti tali per cui ho dei picchi sul singolo minuto. Mi è capitato con una valutazione di trovare tutto verde e un minuto rosso. Perché era un punto di incrocio che era l'ultimo minuto dell'ora precedente, ma in mezzo ha fatto un lavoro affaticante. Quindi, quella lì, sommata all'ultimo minuto di quello prima, ha mandato, è fatto diventare rosso per un minuto. Ma la cosa pranzo non la gestisci qua? Eh, puoi inserirlo. Se ti può essere utile, la inserisci come attività 0. La inserisci come attività 0 effettivamente. Poi, in verità, ti conta relativamente perché sì, ti può contare se tu hai, prima la pausa pranzo e dopo la pausa pranzo, un'attività magari di 30 minuti. Cioè, la puoi inserire. Dipende sempre tutto. Il tracciato ti aiuta per far capire. E qui non andrei tanto sul fine perché vedi che il compito è dato dai compiti 0,36 e quelli è. Quindi non vado tanto più nel dettaglio perché tanto non più è fatto. Ok? Tutto questo, naturalmente, poi lui, se lo va a riportare qui, quindi vedete verde, sollevamento e trasporto, arancio, il sollevamento. Se cambio qualcosa, questo se li va a cambiare lui e io sono a posto. Vedete che cambia anche sul questionario. Quindi il questionario, quella banda, comunque riporta il valore complessivo della valutazione dei dettagli. La valore è fortissima del questionario. Sì. Come al solito, nei report, voi avete la parte introduttiva e poi il questionario, ad esempio. E poi le valutazioni di dettaglio dei diversi indici. Ah, no, ho sbagliato. Volevo fare così. Allora, vediamo quando ha finito ricaricarlo. Ok. Quindi abbiamo, sono presenti più di 3 kg. Applicare la ISO 11228 parte prima. Qui invece, che non avevamo toccato nulla, sul solente trasporto, da verde. Gli altri che erano impostati su tutto a posto, verde. La cosa carina, secondo me, nella parte introduttiva, che va a compilarsi da solo, alcune tabelle che è riassuntive. Quindi mi dà per ogni mansione e per ogni tipologia di rischio il risultato. Quindi in una tabella, adesso aspettiamo solo che faccia l'upload. Però in questa tabella mi dà un bel riassunto, secondo me molto utile. anche... Non ho mai fatto. Noi abbiamo in mano, invece, per questa paura. Non puoi ancora usare questa. Anche per molti eventi possiamo... Sì, certo. Ah, ho sbagliato. Eh, qui con Google Drive non viene benissimo, però. E' solo perché così almeno si vede nella registrazione. Su Word poi quella barra non viene. Allora... Qui, vabbè, c'è tutta la parte delle patologie. La metodologia. Gli indici vari. Le tabelle dello SNUC Ciriello. I dati dell'azienda. I compiti. Quindi i rischi da sollevamento, i rischi da sollevamento e trasporto. E poi qui compaieranno i compiti legati a spinta e traino, movimenti ripetitivi e posture statiche. Poi per ogni mansione dà questo valore. Quindi presenza del rischio, che è la domanda chiave. Sì, valutazione preliminare da approfondire, arancio, risultato approfondita, verde. Spinta e traino, sì, preliminare, verde sulla preliminare. Se avessi fatto anche quella di dettaglio col treno e spinta, fairebbe il risultato del treno e spinta. Vedete che qui in questo caso abbiamo due colonne. Uno per il solo sollevamento e uno per il sollevamento e trasporto. Una domanda che si collega al discorso. Se le schede di Einstein, prima d'oggi, nello perfetto che la mia gloria, si parla di rischio ergonomico quando lo si analizza qualitativamente. A questo punto, per agganciarla a questa analisi che è diventata più dettagliata, sarebbe il caso di 5 ore? Dipende. Io alcuni, troverete, per esempio, assemblaggio, troverete che si parla di movimenti ripetitivi. Sì, però va bene. In altre cose trovate rischio ergonomico, a volte sono le movimentazioni manuali, spesso movimentazioni manuali e caiche. No, ma c'è la domanda perché in molti casi, diciamo, sai che prima di arrivare dell'autorazione a sopondite ne passa, voglio dire. Esatto. Noi le terrei uguali. Nel caso di cui ti parlavo oggi a tre, però non c'è, no? Nel senso, siamo in una situazione in cui c'è una valutazione qualitativa ergonomica e l'azienda diceva io perché altro punto e perché purtroppo ergonomico. Eh sì. No, no, il discorso è proprio quello. In fase iniziale il datore di lavoro si chiede quali sono i propri rischi. E quindi individua la movimentazione manuale e caiche. E all'interno delle schede di valutazione, o rischio ergonomico, o movimenti ripetitivi, o posture. Lì, dipende. Individuazione del pericolo, misure adottate ad oggi, rischi residui. Poi arriverà il momento in cui il datore di lavoro si chiederà ok, ma complessivamente il rischio è quanto male? Oppure, di queste operazioni, qual è quella che mi frega di più? E allora a quel punto la valutazione, quella del DVR, sicuramente non basterà. È un po' come il rumore, no? Il rumore, non c'è bisogno che siamo noi col fonometro a dire che la smerigliatrice fa rumore. Il datore di lavoro dice, la smerigliatrice fa rumore e do le cuffie. Sono a posto! Boh! Non lo so perché? Perché non so capire se le cuffie abbattono a sufficienza. E allora come faccio? Devo fare le misure e verificare l'attenuazione. E qui un po' lo stesso discorso. Faccio la mia valutazione, individuo quei compiti che hanno una movimentazione, che tipo di movimentazione. Adotto già delle misure di buon senso, poi però magari mi viene il dubbio, ma sto operando bene. Sarà il metodo giusto? Il rischio sarà alto, medio, basso? E allora a quel punto faccio l'indagine di dettaglio proprio identico a quello che succede col rumore. Direi che il parallelismo ci sta tutto. Ci sono state considerazioni che magari potrebbero essere molte ipotesi di rischio verdi e magari diciamo una rossa diciamo, no? Cioè? Cioè? Cioè, dico, il pollevamento magari potrebbe essere un certo scopo essere rossa i movimenti ripetitivi potrebbero essere aperti diciamo, no? Sì, sì. Ma infatti proprio, vedi, stata bella. Ecco, nella relazione di quella di sintesi nella parte nella relazione iniziale come viene considerata come conclusione questo discorso. Allora, qui lui stampa questa cosa dove quindi per ogni distretto hai quindi, immagini ha detto pulizia ha detto manutenzione verde ha detto logistica però sollevamento presenza del rischio sì, no? Valutazione iniziale da approfondire verde per le singole eccezioni Sì, esatto. Proprio per di per sé non esiste una giunzione in questo momento per esempio spinta e traino e sollevamento agiscono sullo stesso distretto che è la schiena ma non esiste una possibile corretta al momento Rido perché ho citato le varie cose che ho visto un'azienda che aveva proprio un'arri perbronte ho visto un'inizio di donità per un impiegato in cui il medico dava l'obbligo di non superare il 0,5 kg di rinforzamento questo non poteva neanche bere voglio dire mezzo bicchiere e allora dice ma sono più piccole esatto perché il gran testo questa terra oggi comincia a dire per cui 0,5 0,5 mi sembra proprio oltre c'è un bel lavoro da fare comunque a me è capitato adesso già due o tre volte anzi siamo alla quarta volta un giudizio dalla medicina del lavoro del CTO che si basa sugli indici di rischio però a me è capitato uno ad esempio che chiedeva un naios verde con un peso di partenza di 10 kg no no ma è bello che ha fatto questi giudizi senza che ci fosse una valutazione un indice di rischio già di per te voglio dire che già no ma infatti poi giocare sul peso è molto poco significativo ma che significa giudizio ha più senso dire voglio un indice di rischio voglio una zona verde non accetto neanche il giallo per quella persona e poi la giustificazione per l'azienda perché io non mi prendo la responsabilità tu già la responsabilità non è tutta perché hai inserito una idoneità diciamo sbagliata che è sbagliata o vogliamo che è una eternità come dire per cui si vede la direzione leggi domande? è un mondo è questo non è che si esaurisce non è che non si esaurisce in due ore quindi non è non è questo però si può si può fare ecco è un mondo